Non esiste memoria se ti rubano il tempo. Entravano dentro le fabbriche giorni precisi bruciando i telai. All'inizio del ventiduesimo secolo il grande telai era reso un mondo virtuale edificato su un mondo che in fondo era artificiale, già come tale era una sovrastruttura di un mondo mentale, in quanto mentale sovrastruttura di un mondo reale, già ne bastavano tre. Quella notte fatale la data, con la rete che ti attanaglia, tutto quanto il paese per strada è come bandiera a una calza maglia, ora Rank non sabota, lui lo sa che ogni tessitore ha un errore nell'animo, simula il comportamento nei limiti di una qualunque d'Arakno, questa è la storia di Arachno Boy, primo prototipo anarcho droid, questa è la storia di Arachno Boy, figlio dell'uomo pronto all'attacco, vive nella memoria di tutti noi. Questa è la storia di Arachno, lui conosceva il segreto del ranko, prima di tutto ha ricapitolato ogni dettaglio del reticolato, questa è la storia di Arachno, fece una rete su ogni dettaglio, ultima freccia virtuale dell'arco, dichiaro guerra al grande telaio, questa è la storia di Arachno Boy, piano segreto degli amici suoi, nato da vecchi dei vittimi guerra, primo prototipo anarcho droid, questa è la storia di Arachno, figlio dell'uomo pronto all'attacco, l'animo scritta dagli Huggers e l'hardware, l'opera d'arte degli ultimi quattro mutoi, questa è la storia di Arachno, lui conosceva il segreto del ragno, venne protetto dal male cresciuto da umani, che lo sapevano amare, non era nato tre supereroi finchè poi, fece una rete da primo Aspiraldo contro la rete del grande telaio, il grande telaio